Un cordiale benvenuto a tutti. Voglio partire subito da una dichiarazione che ho trovato sul giornale Il Fatto Quotidiano di sabato, un'intervista di Carlo Tecce a Marco Simeon, 33 anni, figlio di un benzinaio di Sanremo, benzinaio agipio di Via La Marmora, che è diventato, tra gli altri incarichi di prestigio in Vaticano, il direttore di Rai Vaticano e che appunto dice, io non ho mai rilasciato interviste ai giornali, al fatto rilascio questa intervista, ebbene alla domanda di Carlo Tecce che gli chiede, ma lei scusi è massone? Marco Simeon risponde, no, posso solo dire che la massoneria è una componente fondamentale del potere in Italia. Dunque abbiamo un direttore di un canale pubblico, di fatto finanziato anche con soldi italiani, del più importante stato teocratico del mondo, il Vaticano, non che il più ricco, che dichiara così proprio con grande spavalderia che in Italia il potere viene detenuto dalla massoneria. Marco Simeone è questo ragazzo che vedete in primo piano e che dunque ci fa sorgere spontanea una domanda, perché tu che dirigi Rai Vaticano non indaghi e non magari porti alla luce tutti i canali massonici, le relazioni che ci sono intercorrono tuttora tra il potere dei palazzi e questo sottobosco di, io li chiamo mafiosi, perché massoneria è uguale a mafiosità, cioè un qualcosa di losco, di parallelo che non è dichiarato ma che di fatto influisce e determina le sorti di una nazione, di un popolo, anche di una sola fetta della società, come per esempio il fatto di aver fatto ingresso nell'Euro senza nessuna forma di referendum nei confronti dei cittadini, quindi tutte queste decisioni politiche che vengono prese, lo stesso Monti che viene di fatto rimpiazzato a Berlusconi da Napolitano senza consultazione dei cittadini, visto che lui è così sicuro che la massoneria comanda in Italia, questo rampollo del vescovo di Ventimiglia, perché non fa un'indagine e non si rende più trasparente, se il Vaticano fosse trasparente, cose già dette e ridette, io credo che queste dichiarazioni dovrebbero un po' indurre a pensare in che razza di paese siamo, sempre che una buona quota, una buona fetta di elettorato non gli stia bene così, perché magari c'è una quota di cittadini che pur di avere uno stipendio e non avere guai e non avere responsabilità preferiscono accettare questi compromessi, che qualcuno lì governi anche in maniera illegale, purché non avere fastidi, può anche essere, perché non mi spiegherei come continuino a governare questa Gentaglia, dai Berlusconi ai Formigoni e tutto quanto, però al di là di questo Gentaglia inteso come da un lato un corruttore, un puttaniere e tutto quanto, dall'altro abbiamo comunque il capo di una setta massonica che è CL, che è la congrega delle opere PIE piuttosto che delle compagnie delle opere insomma e che di fatto governa in Lombardia col voto di chi, se non di chi ovviamente ha in qualche modo un ritorno, un interesse di ritorno affinché lui governi in regione in Lombardia, visto che ha in mano le mani in pasta nella sanità e anche negli appalti. Comunque al di là di questo che è un discorso già assodato, io vorrei adesso invece concentrarmi e dedicare questa puntata alla reazione dei giornali nei confronti della sentenza che riguarda Berlusconi nel processo Mills, come saprete è stato prosciolto in primo grado per intervenuta prescrizione, Berlusconi imputato di corruzione in atti giudiziari, reato accertato poiché il corrotto Mills è già stato condannato sia in primo grado che in appello e dunque prosciolto in Cassazione a sua volta per intervenuta prescrizione e dunque come hanno reagito i giornali a questa notizia? Io vi mostro velocemente la rassegna stampa partendo da Repubblica, la prescrizione salva Berlusconi, processo Mills niente giudizio, il Cavaliere ora riformiamo la giustizia, poi ci sono due analisi, una di Massimo Giannini che titola un lascia passare ad personam, dunque ripercorre tutta la storia di questo processo e tutti gli intralci legislativi che hanno portato a questa prescrizione e dall'altro l'ex premier e le carte, lui è il corruttore, dunque un'analisi più approfondita di quanto scrivono i magistrati nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di Mills a titolo di Piero Colaprico, dunque di fatto una fotografia veritiera di quello che è stato questo processo, la prescrizione salva Berlusconi. Veniamo invece adesso al Corriere della Sera che scrive caso Mills, processo finito. Dunque io non credo che ci sia qualche italiano completamente a digiuno del caso Mills, il caso Mills comunque tutti bene o male lo hanno sentito, diciamo che molta gente ha le idee confuse su come siano davvero andate le cose, certo è che titolare in questo modo un processo, cioè processo finito come se Berlusconi fosse innocente o come se Berlusconi fosse uscito da un guaio, cosa che di fatto è successa, è un modo sicuramente artificioso, piduista di trasformare la realtà. Il Corriere avrebbe potuto scrivere corruzione Mills, virgola, Berlusconi prescritto. Ecco, avrebbe fatto un titolo molto più veritiero, aderente a quello che di fatto ha scritto Repubblica. Però il Corriere sappiamo che è di origini piduista, Rizzoli era piduista, dunque anche oggi abbiamo avuto un Piero Ostellino che ancora scrive porcherie di ogni tipo, fortunatamente lo hanno relegato a pagina 60, che ha diretto Ostellino il Corriere, Battista a sua volta che viene affiancato nella sua analisi da una corretta analisi di Luigi Ferrarella sotto il titolo. Ebbene, Ferrarella scrive un percorso a ostacoli già scritto, dunque ripercorre la storia di questo processo, delle recusazioni ai danni dei giudici, Gandus due volte perché è dichiarato comunista, l'ultima recusazione messa in scena degli avvocati deputati Ghedini e Longo che hanno così determinato questa prescrizione. Anche se effettivamente Ferrarella ricorda che le udienze negli anni passati erano molto diluite, si sono concentrate soltanto alla fine, in quest'ultima parte di processo, vai a sapere se anche in procura a Milano hanno cercato di farlo prescrivere questo processo per evitare di condannare Berlusconi. Fatto sta che a fianco Pierluigi Battista scrive la guerra infinita da archiviare e ovviamente insiste su questa finta guerra tra il potere giudiziario e il potere politico da un lato, dunque fa tutta una sua analisi che non vi sto nemmeno a leggere perché fa rabbrividire ovviamente e dovrebbe anche intaccare il comune senso del pudore, se non fosse spudorato Battista non scriverebbe certamente queste cose e certamente se lo fa è perché guadagna molti soldi e dunque si vende, chi glielo fa fare di scrivere la verità gli conviene metterci la faccia e la firma per far vedere che la sua posizione, perché poi il giornale il Corriere mette sullo stesso piano, Ferrarella e Battista in maniera assolutamente inopportuna perché affianca la cronistoria vera del cronista giudiziario Ferrarella con la puttaneria di Battista, che quindi in maniera molto corrotta a livello morale, perché questo Battista corrompe anche il ruolo dei giornalisti scrivendo certe cose, però messo sullo stesso piano il Corriere si traveste da imparziale, dunque non di fatto dando la giusta evidenza ai fatti che Ferrarella racconta in prima pagina, però questa è la posizione del Corriere che rimane comunque ricordiamo il quotidiano più letto in Italia, assieme a Repubblica. Veniamo adesso invece a quello che scrive La Padania, perché come saprete Bossi ha detto che Berlusconi non è stato condannato per motivi politici, non si sa bene di che tipo o sia, perché si temeva che una condanna di Berlusconi avrebbe avuto ripercussioni sul governo Monti, cosa alla quale io non credo, però è un modo molto furbesco per cercare di uscirne da questa storia e dunque La Padania di fatto non dà visibilità in prima pagina alla sentenza su Berlusconi, apre con questo articolo il popolo si ribella monito a Monti, se muoiono il pensionato muore anche il suo governo, però troviamo traccia del caso Mills qui nei sottotitoli, la prescrizione per Berlusconi è una pronuncia che salva l'esecutivo del professore, come a volerlo discolpare la Lega in maniera molto corrotta, finge di niente, sapendo che il loro corruttore a cui si sono venduti di fatto avrebbe avuto una condanna certa nel caso in cui l'Italia fosse stato un paese normale, ossia senza prescrizione, nel processo cominciato e dunque se ne esce così con un'analisi tutta falsa per salvaguardare il governo Monti che peraltro la Lega attacca e che è una delle ragioni, forse la ragione principe che ha portato a dissociarsi dal PDL e a dire che il PDL e la Lega non si allereranno più come è già successo anche in Lombardia con le dichiarazioni da parte di Boni che ha detto PDL e Lega mai più insieme, comunque libero, Berlusconi-PM25-0, quindi una partita Berlusconi-PM25-0 prescritto il processo che non avrebbe mai dovuto cominciare e nel corso del quale non è fornita alcuna prova se non quella dell'accanimento giudiziario contro il Cavaliere. Ovviamente Belpietro, pagato e strapagato quello che si inventa agli attentati a casa sua, dice con la sentenza del Tribunale di Milano si è chiuso ieri un processo del Silvio Berlusconi che non avrebbe neppure dovuto cominciare. Chiunque avesse letto gli atti del procedimento senza avere gli occhi offuscati da pregiudizi nei confronti dell'ex Premier si sarebbe infatti immediatamente reso conto che il cosiddetto caso Mills non sarebbe mai potuto approdare a sentenza di condanna, principalmente per ragioni di tempo. Non entra nel merito Belpietro del reato commesso, ma del tempo, c'è la prescrizione abbreviata dal governo Berlusconi, che ovviamente Belpietro offusca in questo modo, ragioni di tempo. E dunque dice, la presunta falsa testimonianza dell'avvocato inglese risale al 1995 e la presunta ricompensa per aver mentito e qui c'è proprio Belpietro che mente, non c'è il presunta ricompensa, c'è la ricompensa, non è presunta, la ricompensa è assodata perché i soldi sono arrivati, sono passati dei conti correnti, sono assodati e sono anche l'oggetto del contendere di Mirs che al commercialista raccomanda di occultarli nel bilancio in quanto sono un regalo di Berlusconi che con quei soldi l'ha potuto salvare da guai giudiziari, motivo per il quale il commercialista inglese denuncia Mirs, il suo cliente, alla procura a Londra e che quindi trasmette tutto a Milano e che dà via a questo processo. Quindi non c'è nessuna presunta ricompensa, ma c'è una ricompensa vera e propria. Per aver mentito tre anni dopo. Si tratta dunque di roba vecchia, dice Belpietro, che già nel 2005, quando partì l'inchiesta, era vicina ad essere dichiarata prescritta. La procura però si è intignata, dice, e decise comunque di proseguire l'allora Presidente del Consiglio, ma visto che il processo era un morto che avanzava, i PM, per tenerlo in vita, si prodigarono in un accanimento terapeutico mai visto prima. In realtà l'accanimento lo hanno fatto loro, innanzitutto con le recusazioni che hanno bloccato il processo ai danni della Gandus, il lodo Alfano che rimane il simbolo del fallimento di questo processo, di questa condanna. Estate 2008, 23 luglio, gli italiani, quelli che potevano pensavano alle ferie, l'odo Alfano con voto in aula, legge incostituzionale che separa dunque le quattro presunte cariche dello Stato alte, non possono essere processate o processi congelati, legge che va alla consulta che viene dichiarata incostituzionale dopo un anno e mezzo. Quindi l'odo Alfano e poi il legittimo impedimento e poi il processo lungo, una serie di porcherie, c'è l'accanimento del politico del governo Berlusconi sul processo Mills e che ha di fatto occupato questa legislatura anziché occuparsi dei problemi degli italiani dove oggi ci troviamo immersi, anziché occuparsi di migliorare questo paese e le sue sorti economiche e di evitargli il default. Accanimento terapeutico mai visto prima, ha ragione, però doveva dire del governo. Il reato da perseguire non fu fissato nel momento della presunta erogazione di denaro, e ridacci con presunta, c'è stata erogazione di denaro, non c'è presunta, ma con una zardata interpretazione giuridica. Lo si spostò di un paio d'anni, quando cioè Mills decise di spendere la somma, idea originale e ai limiti della decenza, in quanto se la si accettasse vorrebbe dire che un ladro non è ladro fino a che i soldi rubati non li usa. E qui c'è un'altra stortura di Belpietro, perché la prescrizione di Mills è arrivata, cioè se Mills è prescritto in Cassazione deve ringraziare i giudici, cioè la corte di Cassazione che ha collocato il reato di corruzione non nel momento in cui Mills, come dice lui, è entrato in possesso dei soldi, cioè non quando gli sono stati promessi, bensì quando è potuto entrare in possesso di questi soldi, ossia nel febbraio del 2000 e non nel novembre del 1999. Siccome la Cassazione si era espressa proprio a fine febbraio del 2010, in campagna elettorale pelle regionale, quindi fu dichiarato prescritto, quindi per pochi giorni anche in quel caso la condanna in appello è rimasta, ma prosciolto in quanto la Cassazione dice che troppo tempo è passato, la Cerielli ci impone dieci anni e sono passati dieci anni e tre mesi, non possiamo più confermare questa condanna. E dunque volendo farla franca è sufficiente mettere il denaro sotto il materasso, dice Belpietro, se uno fosse in grado di capire che mette i soldi in banca, insomma, cioè si aggrappa alle banche come se questo bonifico quindi tracciato, e qui c'è la missione di Belpietro, non è più presunto, è un bonifico fatto tramite banca, se fosse stato fatto in cash uno potrebbe dire quello che vuole, non essendoci traccia su carta canta non potevano condannarlo, quindi vedete che si tradisce Belpietro. La tesi fece storcere il naso perfino alla Cassazione, ma n'essendoci di mezzo Berlusconi il processo andò avanti e via, e va avanti con le sue cazzate Belpietro. Veniamo adesso invece alla stampa che scrive Mills Berlusconi prescritto, l'ex premier fatta mezza giustizia, ecco la stampa ha almeno la correttezza di scrivere l'ex premier a due punti, fatta mezza giustizia, PDL contro il PM, finita la folle corsa, e poi l'analisi di Carlo Federico Grosso, un esito figlio di tre leggi. Venendo poi ancora al Corriere, perché faccio questa sottolineatura del fatta mezza giustizia? Perché appunto la stampa, quantomeno dice l'ex premier, prende a modello la dichiarazione, cioè è una dichiarazione di Berlusconi, quella della mezza giustizia, mentre invece il Corriere in maniera molto piduista scrive sotto il titolo, caso Mills processo finito, Berlusconi prosciolto in prescrizione, due punti, mezza giustizia è fatta, ecco, e questa è scritta così questa frase senza virgolettato, come ci vorrebbe, cioè presa da una dichiarazione di Berlusconi, sembra una presa di posizione, anzi diventa una presa di posizione del Corriere e dice mezza giustizia è fatta, vedo diciamo noi del Corriere e non fa capire che in realtà quella è una dichiarazione di Berlusconi. Ecco il livello corruttivo di certo giornalismo, di certo piduismo infiltrato ancora oggi nel Corriere della Sera, che si spaccia per quotidiano ahimè equilibrato. Dei giornalisti validi come Ferrorella ce ne sono nel Corriere, il problema è che non hanno la visibilità che meritano, magari perché vengono equiparati a Battista o a Ostellino, e questo è il male, quindi viene dato nelle mani del lettore la facoltà di decidere l'attendibilità di un'analisi rispetto a una presa di posizione, ma noi sappiamo tutti che per conoscere bene i fatti bisogna aver studiato e aver sempre letto i giornali da 20 anni o 30 anni a questa parte, quindi è chiaro che molta gente che legge si deve fidare di quello che il giornale scrive e quindi siccome purtroppo la visibilità del titolo è quella che più incide nel senso comune e incide anche nel farsi una propria posizione e farsi un'opinione, purtroppo questo modo di scrivere le cose in prima pagina serve solo a intortare i lettori e soprattutto a confondere le idee e a far credere che Berlusconi alla fine è stata una vittima e dunque questa è la realtà purtroppo con la quale ci dobbiamo scontrare col processo Mills e che finché lo fa il giornale libero che prende 7 milioni l'anno di contributi da regalare in parte dei quali regalati a Belpietro, chiaramente possiamo anche capirlo, è un giornale di parte, come del resto è il giornale che dirige a Sallusti anche se non prende finanziamenti pubblici ma è di fatto finanziato da Paolo Berlusconi, possiamo capire che sono giornali di parte, ma che lo scriva il Corriere che prende più di 20 milioni l'anno di contributi pubblici all'editoria direi che sia davvero uno scandalo un pochino a sapore di mafia che in Italia deve essere davvero smantellata. Quindi chiudo qui oggi questa puntata purtroppo dicendo che sostanzialmente l'unico, un altro giornale che merita chiaramente di essere definito corretto, va detto appunto, era fuori discussione il fatto quotidiano che scrive Berlusconi prescritto per aver commesso il fatto, impunito per una decina di giorni ma senza la Cirielli che estingue il reato in 10 anni anziché 15 sarebbe stato condannato come Mills e questo è un altro al pari di Repubblica, titolo veritiero di questa triste vicenda che è quella di Mills, la corruzione di un testimone da parte di un illustre, tra virgolette, cittadino che paga appunto questo testimone affinché testimoni il falso in un altro processo sulle tangenti alla Guardia di Finanza, pagate da Berlusconi affinché la Guardia di Finanza ammorbidisse i controlli fiscali sui bilanci della Fininvest e dunque con la prescrizione di questo processo secondo me è una sconfitta anche sociale perché una sentenza di condanna per Berlusconi al di là della persona che è lui, lui come Silvio, ma per quello che ha rappresentato in Italia, cioè il capo del governo che viene condannato per corruzione in atti giudiziari, avrebbe significato anche la condanna di un sistema, di un metodo che è quello di corrompere le persone per venire meno ai loro doveri per il proprio tornaconto, perché alla fine dietro la corruzione di Mills c'è una ragione personale, aziendale di una persona privata che diventa capo di governo apposta per non farsi condannare che dunque ha truffato, ha nascosto soldi all'estero, tanti soldi e che di fatto li ha occultati al fisco e che in questi anni ha potuto anche contare su una percentuale di cittadini italiani che come lui nella sua condizione e anche con meno soldi hanno potuto favorire di questa situazione, grazie alle sue leggi hanno potuto imboscare soldi all'estero, hanno potuto beneficiare dei falsi in bilancio, hanno potuto dunque contribuire ad accelerare il fallimento di questa nostra povera Italia che oggi si trova con un debito insanabile non per colpa dell'euro, bensì per colpa delle politiche e della mentalità che purtroppo Berlusconi è riuscito a diffondere col suo malgoverno, mandando fuori uso la giustizia e soprattutto favorendo queste forme di evasione fiscale, perché se tu trovi mille ladri che portano i soldi in Svizzera, un miliardo tu, un milione tu, è chiaro che svuoti l'Italia, oggi è senza denaro contante ed è purtroppo col debito pubblico insostenibile perché appunto si è vessato soltanto chi non ha soldi, che sono gli stessi oggi cittadini poveri che non sono ricchi come Berlusconi, tantomeno hanno il decimo dei suoi soldi, sono quelli che vengono avvessati ancora con nuove tasse, con Monti che fa questa figura del sobrio e che in realtà è espressione del ricatto delle banche. Non osa commentare questa sentenza di Berlusconi in quanto Monti è solo un premier di facciata che ha bisogno del voto dei Cecchitto, di questi piduisti schifosi che gli stanno alle spalle per poter approvare leggi sulle liberalizzazioni che di fatto non stanno avvenendo, nemmeno per quelle categorie che hanno votato, cioè col voto di scambio dei rappresentanti su delle promesse personali e di lobby. I lobbisti che stanno al Senato e che premono sui senatori sono lì a fare una capatanta per evitare che ci sia liberalizzazione, che ci siano forme di mercato più eque e che questo Paese diventi più trasparente. Dunque finché avremo questa situazione l'Italia non migliorerà e questa sentenza, questa prescrizione di Mills è una sconfitta per tutti, perché Berlusconi alla fine fa la parte di quello che ha vinto su una giustizia carinta contro di lui, ma di fatto lui ha potuto fare il delinquente, evasore fiscale, corruttore di giudici, testimoni e chi più ne ha più ne metta, uscendone sostanzialmente impunito con la faccia pulita di quello che alla fine potrà sempre dire in merito il Quirinale.